Ok, allora, passiamo il turno. Ah sì, la spia. L'esercito del Basileus, se non ricordo male. L'armata, sì. Il mio eroe, la Charax. La Bactra che finalmente muove un esercito. Ribelli o... Un'altra fazione? I Cush. Hm, l'Armenia che muove un agente in mio territorio. L'aria che muove truppe... Capisco dove, non capisco perché. Il mio alleato Sardi che ritorna a casa. Che è bene perché... Così ho supporto... Militare. E' morta Milton, no? A culturazione. Le differenze culturali appresentano una sfida per coloro che devono amministrare un territorio straniero. Tuttavia esistono dei modi per incoraggiare gli stranieri ad accettare il tuo governo. Inclusione, sincretismo, sottomissione. Mi controllo nelle province limitrofe. Oddio, sottomissione non sarebbe male. Almeno più 10 è l'influenza culturale della propria fazione. Ma sono un po' indeciso. Facciamo sincretis... Facciamo inclusione, va. A causa di un'attività di Milto. Eh, Milto era quella che mi serviva, però. Facciamo un po' di supporto alla Bactria. Perfetto. Allora, a questo punto qui... Vediamo. Facciamo questa. Aria. No. Sotera. Vediamo. Questa nel caso venisse scoperta. Questa che non è male. Una strega e un serpente addomesticato. Che bella compagnia. Allora. Nisa, mi puoi fare... Più 4 al cibo, più 3 re integro, più 5 al cibo. Ok. Tu invece mi puoi togliere questi. No. Ho sbagliato. Ok. Prendiamo. 238. 238. Però mi costano di meno. Ok. Questi possono servire... Caleria pesante mercenaria. Persiana. Caleria persiana. Questo si potenzia. Questi vanno bene. Magari posso togliere... Una cavalleria. E ci prendiamo... Un altro arciere. E quantomeno... Siamo abbastanza pronti. Aia. Questa l'hanno presa. Gli nemici di Circe. Attenzione. C'è l'esercito ribelle sopra la città. Vabbè. Amula. Una guarnigione di 7. Tu ne hai 10. Picchiari con corazza, tra l'altro. Ce la dovresti fare. Ancora un turno. Iriutanti aumentano. Rapporto di costruzione. Però mi toglie uno di cibo, quindi no. Questo l'abbiamo fatto. Mermen, Palmira. Abbiamo fatto la miniera. Ok. Noi stiamo facendo... Costi di costruzione. Perfetto. Poi io penserei... A un qualcosa di economia. Perché qui mi serve il mercato ittico. Ranch bovino. Popolazione in eccesso nella gedrosia. Pura. Ah, poi posso fare questo. Popolazione immotivata in partia. Non l'avrei mai detto. Meno 4 a cosa? Aspetta. All'ordine pubblico per lo squallore. Però... Si può fare. E' incoraggiata in Etiopia. Ciarmuta ha un porto commerciale. Qui ha un porto commerciale. Ciarmuta lo volevo, se non sbaglio, convertire. Con un bacino di carenaggio? O una banchina? Non ricordo. La banchina mi dà le truppe. Si, penso banchina. Allora, tu mi dai meno 4 al cibo. Tu mi dai meno 4 al cibo. No, tu niente. Allora, sì. Guadagniamo anche 4 di cibo. Qui c'è l'acquedotto. Qui c'è l'acquedotto. Di ospoli. Ptolemaesteron. Ptolemaesteron. Ah, sì. Lo sto facendo. 22. Magari... Quello 99, ma sì. Ah, ecco chi c'era qui. No. Me lo so sognato. Non c'era. Tu vai bene qua. Nicolao. Sì. 68. 73. Passiamo il turno. La spia. Questo pannello posso chiuderlo? Sì. Bachter che mette sotto a sedio Maracanda. No, si fortifica. Ma che diavolo. Ah, Hardan, vuole un transito militare. Il transito militare non mi dispiace, tutto sommato. Però mi dà di più. Allora, niente. Ah, ecco cosa voglio fare. Chiedo all'aria, e soltanto all'aria, se posso farlo, di attaccare la partia. Il patto di un'aggressione con i minei. Ma, perché no? I nasamoni. Valencia di fensia contro il cartaggine. No. Sarti. Ok, ci siamo. Cimmeri. Accordo commerciale sciolto. Agente ostacolato Uzza. Ricerca completata. Categoria costruzione. Pace negoziata. Triballi. Filomea. Filomela. Oh, è morta la spia. Grado aumentato Nicolao. Carete. Zello più due. Questo personaggio fa voto di onorare la sua memoria ogni giorno, pregando e celebrando i ritorni mattutini. Bravo Carete. Facciamo questo. La parola è d'oro. Guerra dichiarata. Macedonia con Scordisci. Con Ida Orsi. Cush con Axum. Interessante. Cush con Axum. Pergamo e Armeni sono in guerra. Madonna, il mondo è scoppiato. La Cirenaica e i Mase Sili. Rapporto di costruzione. Il mondo è un bel casotto adesso. Cirenaica e il mondo è un bel casotto. Cibo 9. Dobbiamo aspettare un po' di turni. Adesso qui facciamo Economia. Più 4 alla ricchezza agricola. Sì, forse è meglio questo. No, però è ricchezza agricola. Questo è tutto il commercio. Mi sblocca l'inoteca, la Macrastoa e il mercato ittico. È quello che mi serve di più. In Getrossia sono felici. Accogliente con i fuorissieri. Leone. Allora voi... Andate a Gazaga. Perché non mi piace come si stanno mettendo le cose. Il Basileus può tornare felicemente a casa. Tu magari metti anche la marcia forzata. La Macedonia con i triballi. La party è felice. Alleanza negoziata a Bitini e a Colchide. Un po' di movimenti politici. Ah, i triballi, vedi, ci sono insediati qua. La Macedonia in guerra con gli Scordisci. E con, credo, i Daorsi. I Daorsi. Ah, i boi sono arrivati fin qua giù. Pergamo in guerra con l'Armenia. Ardaan. Sì, ho fatto bene a spostare l'esercito qua. E i Kush sono in guerra. Con Axum. Certo, hanno l'esercito dalla tutt'altra parte, quindi. Qui, invece, 25. 17. Io questi devoti di Positone quasi quasi li rimanderei a casa. Ok. Attenzione, attenzione, attenzione. Guerra Lampo dei Roxolani che hanno conquistato tutto qui. Andiamo per di qua. Potrei sabotare questo. No. Facciamo così. Prendiamo la spia. Ok. Eh, vedi, però hanno due eserciti. Certo, non è il massimo. Però con le mie genti spero di dargli un po' di supporto. Questo si è ripreso? Eh, ci vuole ancora un po'. Magari possiamo fare che lo metto qua. Fortifichiamo così aumento un po' di più. Se ti allontano. 16. Adesso lo spostiamo qua. Ok, passiamo il turno. Ancora due insediamenti. E forse concludiamo. Attenzione, attenzione. Bactria alla riscossa. Maraganda è stata riconquistata. Allora tutte le mie azioni si concentrano sull'ultimo insediamento della partia. A meno che la partia non voglia diventare una mia satrapia. Ah, mi sono scordato l'aria. Vabbè, ma a questo punto... Non credo che servirà. Agente ostacolato. Uzza, filea, depistaggio. Pace negoziata, triballi e lepiro. Popolazione ispirata, etiopia. Eh, io qui un attacco infido glielo farai agli etiopi. Memphis e Catonfilos. Eh, il cibo è tre. Eh, dobbiamo aspettare un po' qui di cibo. Allora, potrei fare... Eh, tra butta scorte non sarebbe male. Però se faccio questo... Rubiamo le provviste. Eh, che non è male. Qui creiamo malcontento. E va a due. Ottimo. Eh, questi ci sono. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Magari potrei dare... Ma forse io ci andrei con questi. Eh, il trazito militare ce l'ho, no? Allieato militare. Sì, è arrivato militare, quindi... Non la trasmirci. Ma direi che ci siamo, cioè, alla fine. Eh, questo no. Facciamo per così. Ok. Qui siamo ben difesi. Più o meno. Qui potrei fare il Tempio di Zeus, ma mi toglie cibo. Devo aspettare i due turni per fare quello. Mmm, potrei chiedere all'aria, magari... No. Madonna, calmate, ragazzo mio. Sì, che è tutto questo qui? 6.009. Vabbè. Beh. 59, insomma, non è che è proprio amico amico. 89. 126. E la media non è che è molto... Ok. Aspetto. Magari potrei pensare di prendermi... Ah, questi... Ok, magari questi. Azioni della gente... Eh, sono amici della Gerarra, in più. Geraea. E il Regno di Saba, che è... Ambizioso e subtolo. Potrei prendere il Regno di Saba. Effettivamente. Certo, è tutto deserto, quindi non è che è tutto sto cranchè. Oppure potrei puntare su... Agulia. A Ogila. I Nasamoni, che sono in guerra. Sì. Forse sarebbe mai approfittarne. Visto che adesso sono in guerra. Marcia veloce. Sì, proviamo ad allontanarli. Sono in guerra, no? Voglio controllare. Sì, sono in guerra con Axum. No, mi serve l'esercito. Ok.